Ma ben a tutti e ben ritrovati qua sul canale perché andiamo a gustarci un po' la seconda partita della Juventus, qua nelle tournée americane che tra a breve poi ricomincerà pure il campionato e c'è Juve Real Madrid. Sappiamo che la Madrid è una super squadrona e noi quello che è e però speriamo di riuscire a portare a casa almeno una vittoria da questa tournée. Stiamo entrando proprio in campo in questo momento e speriamo in bene. Oh c'è pure Kakà Modric qua partono già belli cattivi il Real. Courtois, Courtois, Chesney vengono un po' inquadrati Eh UEA, il figlio dell'UEA che vecchietto lo sa, sono partiti. Oh! Eppola! Oh che azione! Mamma mia mamma mia già partiamo così Cioè proprio abbiamo preso il palo, li è passata dietro al portiere, tac, can, li dà avanti e 1 a 0. Cioè se giochiamo così in questi primi tre minuti Oh wow! Stai... oh! 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 Ahaha! Torgi... c'è eh era quasi 2-0 e stavo dicendo si stavano se giochiamo così per tutto l'anno cioè qua vinciamo tutto però non ci facciamo far funegare le ste palle qua in atto buono, buono, calmi, calmi, vai, vai, riparti, riparti, vai chiesa, vai chiesa, vai, metti, e 2 a 0, 2 a 0, 2 a 0, 2 a 0, va bene che non mi chiede però, 2 a 0 a real, ecco la, ecco la, vabbè adesso c'è i seriali, calcio d'angolo in reale, calcio d'angolo in reale, oh, mica, mica la cellulita su, carlet, carletto, ecco vabbè, ci siamo spenti, ho parlato, ci siamo spenti, adesso c'è solo l'oreal madrid, c'è solo l'oreal madrid, ragazzuoli, oh, bella questa, bella questa, oh, niente, niente, era bella, era, era, va bene, va bene, ci siamo spenti, ci siamo spenti, ecca la, ecca, vabbè dai, palla persa lì, eh vabbè dai, 3 a 1, 3 a 1, 2, no, 2 a 1, che è 3 a 1, c'è solo rimbambito, stengo rimbambito, 2 a 1, c'è proprio, ci siamo spenti, ho fatto i complimenti, oh, spenti, 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 2 a 1, ecca la, ecca, guarda che sono tornati, no, guarda, la prendiamo, la andiamo a perdere, 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 sempre così, allora, se siamo sotto, facciamo tanto per andare a recuperare, se siamo sopra, la andiamo a perdere, qualsiasi competizione che è, guarda, da come lascio tirare, noi non siamo contro lo spalle che possiamo fare queste cose, ma neanche contro lo spalle, fine, dai qua, ricomincio il secondo tempo, eccola, eh vabbè dai, dai, finito con il rito da Madrid, in attacco e ora ritorna sempre lui, ritorno sempre loro, accalla un'altra palla per loro, micca, mamma mia, già partiamo così, ed è solo un amichevole, e micca si fa, guarda che spazio che li lasciate, porca madonna, meno male che non hanno colibrato i piedi, 6 minuti alla fine, 6 minuti alla fine ragazzi, un lampo di genio nostro, stiamo ancora vincendo, 2 a 1, un tiro abbiamo fatto, un tiro nel secondo tempo, siamo arrivati alla fine, 30 secondi alla fine, tempi di ricopro, sempre 2 a 1, sempre 2 a 1, ultima azione nostra, dai ragazzi, dai, sul 3, 2, 1, pimpallo Vlaovic, super rimpallo, la mette anche lui, la firma, il 3 a 1, che sofferenza, che sofferenza, sofferenza, oh mare, 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 che sofferenza, che sofferenza, che sofferenza, 3 a 1 signore, è finita, è finita, 3 a 1, è la sofferenza, alla prossima!